Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Il sindaco di Nuscoci di Ecodemita ha partecipato all'inaugurazione dell'anno scolastico del liceo classico Rinaldo d'Aquino. Tra l'altro ha detto, attraversiamo un momento molto difficile, ma guai a chi immagina di fare le cose in fretta e in maniera semplice. Le cose nella vita esigono il tempo giusto. Ha ragione e però sono 70 anni che dice sempre la stessa cosa e allo stesso modo e non ha ancora fatto una sola cosa, né semplice né complessa. Per carità, nessuno vuole mettergli fretta, ma 70 anni dovrebbero essere un tempo giusto. O no? Per carità, nessuno vuole mettergli fretta, ma 10 anni dovrebbero essere un tempo giusto. Per carità, nessuno vuole mettergli fretta. Per carità, nessuno vuole mettergli fretta, ma 10 anni dovrebbero essere un tempo giusto.